L'innovazione è fare cose che altri non fanno, in questo caso donata dall'ordine dei farmacisti, quindi anche con un segno importante di vicinanza e solidarietà, è un bellissimo segno. Nel caso specifico gli studenti chiedono spesso di poter essere più in contatto con la realtà, avere opportunità per fare in modo che lo studio sia anche un primo avvicinamento al mondo reale, alla professione che andranno a fare. È una scelta molto interessante, di grande qualità, noi siamo convinti che il valore che ha Unicam da tanti aspetti, certamente per il nuovo primario di università, ma anche il rapporto forte che tiene col territorio, e il settore di oggi, quello delle farmacie, è certamente uno dei più interessanti. Quella presenza che continua ad esserci ovunque, punto di riferimento per i cittadini, sfornare studenti di alta qualità che hanno la possibilità di sperimentarsi fin alla fase universitaria, prima di fare i tirocini all'interno del farmacie in questa importantissima professione, un'incorsione importante per riguardare all'oggi del ruolo del farmacista e a quello che servirà domani come punto di riferimento, luogo di servizio nei nostri territori.